Ciao a tutti, io vengo da Panermo, vengo in pace, anzi vengo contento proprio perché io sono un amico di Antonio da un po' di tempo, prima di essere amico di Antonio sono stato un suo lettore, poi sono stato un suo commentatore sul sito letterario con il quale collaboro, si chiama Poetarum Silva, non so se conoscete di nome questo ridente boschetto, qualcuno si, qualcuno l'abbiamo anche pubblicato, poi sono stato anche presentatore di Antonio a Palermo, quando però il libro era ancora in buona parte in medito, ma che io conoscevo naturalmente perché Antonio mi aveva passato il resto, però appunto questo è un giorno comunque diciamo così di festa perché sono giorni di festa perché si è realizzato, si è concretizzato un libro a cui teniamo in tanti e di cui abbiamo percepito comunque subito l'importanza, il valore e l'originalità. Poi è anche bello che si sia concretizzato bene, anche proprio in un bell'oggetto, piccolo, con questa copertina ruvida, bello da tenere, insomma, io ho la mia copia, l'ho mandata a Antonio un po' di giorni fa, insomma, sono contento quindi ora vale la pena veramente, ora che il libro è tutto insieme, ragionarci ancora. Allora, non occorre che io vi spieghi cosa sia Etnapolis, suppongo, mentre a Palermo ho dovuto fare la premessa, qui lo salto, e per dire che probabilmente, forse è vero quello che diceva, l'ho detto in tanti, che diceva un critico in particolare, che cioè non che gli autori scrivano alla fine un solo libro, ma è vero che hanno delle figure ossessive che riportano poi a dei miti personali, un sistema di figure che riporta un sistema di miti, ma insomma che c'è qualcosa che è dalla parte dell'idiosincrasia di un autore e ne fa poi la tessitura poetica. Allora, per quanto riguarda Antonio, direi che questo è questo insieme di figure, e lo dico non solo alla luce di Sweet Etnapolis, metto le mani avanti o sbaglierò probabilmente l'accento, perché a volte dico Etnapolis, mi capiterà inavvertitamente, a Palermo ho alternato, senza un criterio, però Etnapolis. Non dico soltanto alla luce di Sweet Etnapolis, ma anche alla luce poi degli inediti successivi di Antonio. Ecco, direi che sicuramente il mito personale di Antonio e le figure ossessive di Antonio riguardano il mondo del lavoro, girano tutte intorno al mondo del lavoro. Effettivamente quello che ci viene raccontato in questa narrazione in versi, come è stato detto, è in gran parte un insieme di storie che si intrecciano, sono le storie di questi lavoratori e lavoratrici di Etnapolis che si ritrovano in condizioni deprivate un po' di tutto, di tempo, di sonno, di sogni, eccetera eccetera. Quindi si può dire che questa grande idea, perché io davvero mi sono appassionato al libro prima di leggerlo, che è l'idea che qualcuno avesse voluto dedicare un poema a un mostro contemporaneo, dico mostro anche in senso etimologico, come è un ipermercato, mi sembrava una grande idea e già questo non è poco. Però appunto questa idea poteva essere, e qui dico ora subito una cosa che a Palermo ho detto alla fine, ma mi sembra importante comunque sottolinearla anche qui, questa idea poteva essere il viatico ideale per una scrittura, diciamo così, di denuncia. È una denuncia in qualche forma c'è in questo libro, cioè noi ci accorgiamo che non va bene così, che 500 euro al mese sono troppo poche, che bisogna respirare, che bisogna avere più tempo libero, che non si può soffocare di lavoro, eccetera eccetera. Non è che Antonio questo non lo sappia, Antonio come individuo è una persona che appunto ha le sue idee forti sul mondo e anche ovviamente sul lavoro. Anche perché sappiamo, saprete che lui è stato anche direttamente coinvolto nell'esperienza di cosa sia lavorare a Etnapolis. Però quello che voglio dire è che poi è come se la forza e la bellezza della scrittura di Antonio dovessero preso un po' la mano fino a portarlo a rappresentare, a metterci davanti agli occhi una qualche inspiegabile ma irresistibile bellezza, perfino del mostro commerciale. Al punto che comunque si creava e si crea nell'arco di tutto il libro un rapporto, che è un rapporto comunque di conflitto ma anche di equilibrio tra l'ideologia e la scrittura e quindi direi anche tra la critica e la fascinazione nei confronti di quel mondo. Si sbaglierebbe a dare a questo libro semplicemente l'etichetta di un libro di denuncia in nome di una qualche emozione anticapitalistica, ma proprio perché se ne leggerebbe soltanto una faccia, una faccia di questo libro che invece ha una ricchezza che è fatta anche di una straordinaria ambiguità, proprio in questo senso che dico. quindi io direi che a quel punto il mostro commerciale diventa forse anche il traslato di qualcosa di più ampio, che possiamo dire magari il nostro comune universale imbestiarci, come dice Antonio, lo dice proprio lui con termine dantesco nel suo libro, di una qualche comunque fatica di sopravvivenza quotidiana che riguarda tutti anche al di fuori, anche al di fuori di un ipermercato, pur mantenendo fermo ovviamente il dato realistico che resta comunque la grande idea di questo libro e poi ovviamente avveratasi nella realizzazione. Vincenzo Frungillo, che conoscerete, penso che ne avrete letto qualcosa in giro, è un ottimo autore di questi anni, un giovane autore, anche poco più quarantenne, poeta, critico, da poco anche romanziere. Due anni fa ha scritto un libro, un saggio critico intitolato Il luogo delle forze, dedicato al ritorno abbastanza frequente alla scrittura poematica, proprio in questi anni in Italia. Frungillo la interpretava come una sorta di reazione alla dispersione dei significati. Io direi che in Antonio quello che sicuramente tiene insieme la dispersione dei significati, il caos delle vite dei lavoratori di Etnapolis e anche il caos dello stile, di cui vi parlerò tra un po', quello che invece lo tiene, ciò che tiene talmente bene tutto questo, fino a darci invece la sensazione di paradossale armonia, è quella che si potrebbe chiamare con una categoria un po' impolverata, però la uso comunque, unità di luogo. Cioè tutto si svolge dentro mura, mura enormi, ma pur sempre mura. Quello che ha fatto di invidiabile Antonio è stato anche quello di ricostruire dentro un luogo chiuso, di fatto un universo mondo. Noi abbiamo la sensazione che in questa balena spiaggiata che è Etnapolis, come la chiama lui stesso a un certo punto, si svolga di fatto l'universo intero, con i suoi ritmi, i suoi ritorni, con le difficoltà. C'è una cosa che è spaventosamente esclusa, ve lo dirò fra poco. Io trovo che questo sia un altro aspetto vibrante di questo libro, l'idea che l'universo intero sia sceso e sia stato in qualche modo ricostruito, in modo trasalato fra mura. Di solito la poesia, c'è un certo tipo di poesia che fa una cosa un po' diversa, che invece cerca proprio un rapporto agonistico con l'universo vecchia maniera, proprio una scrittura di tipo, anche un po' cosmico. Mi pare che quella di Antonio sia un po' un'operazione inversa, quella di portarlo giù questo cosmo e costringerlo in qualche modo al suo racconto. possiamo definire il poema con una formula che il poema stesso si attribuisce, cioè esteso epos di racconti, l'epica appunto, cioè storie di personaggi combinate nell'arco dei sette giorni della settimana intervallate da una voce che invece spicca sulle altre, perché è una voce sopraelevata. Non è sopraelevata soltanto in un senso ottocentesco, cioè che ne sa di più, ma è sopraelevata proprio fisicamente, perché capiamo che c'è qualcuno che alla fine della giornata sale sopra il tetto e domina la situazione e ce la racconto un poco. Io vi leggo quindi il primo di questi interventi dall'alto, siamo a pagina 16. Dalla terrazza da cui solo mi sporgo il paesaggio sembra quasi bucolico, bimbi sull'altarena, altri con le manine sulle sponde di protezione che vengono giù dagli scivoli, disponibili i ricordi che di qui forse a struggerli per sempre torneranno. Coppie che passeggiano capovolte dentro i laghetti artificiali, grida di esultanza dal campo di basket, poi il verde dell'erba e gli olivi, il cipresso svettante, il terrapieno, il fossato di protezione, il rettilineo della statale 121, da dove delle auto non arriva che un frusciare. Ma, Etnapolis di Etnapolis, salmodio a scanso di inganno rientrando, tutto, tutto intero è Etnapolis. Estenuato lo speaker annuncia, attenzione, la signora Longhitano Maria è attesa dal marito all'ingresso del cinema, ma, ripeto, mentre si abbassano le saracinesche comincia la conta del profitto. Allora, io non so se avete, io ho avuto questa sensazione non alla prima lettura, l'ho avuta in letture successive, cioè l'idea che Antonio in questo passaggio e poi anche in altri stia facendo anche del cinema. Io ho proprio la sensazione che Antonio stia muovendo una camera e ci dia proprio alcuni effetti che sono, possiamo intenderli come cinematografici, forse bisognerebbe fare un lavoro però con criteri rigorosi, perché detta così è solo un'impressione, sulla sintassi cinematografica della scrittura di Antonio. Qui per esempio c'è l'effetto di un inganno ottico, noi vediamo passeggiare capovolta le persone, in realtà stiamo guardando il loro riflesso che passeggia. Ci sono questi bambini, in quei due o tre versi bellissimi, commoventi, che già si stanno preparando ai ricordi che un giorno verranno a struggerli. Questo se vogliamo in qualche modo potrebbe essere in dissolvenza la preparazione di un flashback. E tra l'altro Antonio non sempre ci dà il senso, l'informazione meglio del tempo che passa, anzi ce ne dà il senso attraverso i giochi di luce, anche questo è fotografico e cinematografico come effetto. Ne ho selezionato qualcuno, tutti ravvicinati. Cucine domenicali in cui il cielo entra allungarsi sul tavolo, che ricorda molto l'inizio della canzone d'amore di Alfred Brucek, con la sera che si stende sul cielo come un paziente anestetizzato sul tavolo. Elliot è un autore che punza molto in questo libro, vedremo poi qualcosa di più preciso. E un attimo ai corrimani annerisce lo smalto, per un diffuso blackout i negozi si oscurano come lastre. Ectoplasmatica, sbianca la merce, la merce. Ce le dici le pagine? Ah sì, sono pezzi brevi per quello di cercare. In corriamo. 12? 12. No, 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 non è 12, si aspetta un ottimo. 14. No, ma è proprio breve, breve. Ragele in risposta alla luce sui palazzi di via Etnea. No, questo era per farvi, per darvi conto di questa sensazione, ma anche per dire, sarete d'accordo con me già da queste poche cose che avete sentito, che la conta del profitto, anzi no, il profitto non è più soltanto quello di chi fa il bilancio Etnapolis, io direi che qui il profitto sia quello di chi scrive e anche quello di chi legge. Sto dicendo che non è più l'indignazione che tiene da sola a banco. Insomma, è evidente che c'è anche altro in gioco e forse dell'indignazione, per fortuna ce ne dimentichiamo anche in certi momenti e ci godiamo invece uno straordinario mondo ricreato da Antonio che parla non soltanto di Etnapolis. Allora, i personaggi, ve ne dico qualcuno, sono storie per lo più comuni, con le complicazioni quotidiane, più o meno quotidiane, quindi nascite imminenti, ricordi di lutti, amori più o meno infelici. Ce n'è forse una che porta un po' più di pathos nella storia e poi si risolve, infatti, che è un caso di stalking subito da Laura di Love Bowl, quindi noi seguiamo anche lo svolgimento di questa piccola narrazione criminale. Poi c'è un barista, Alfredo, che sta per diventare padre, c'è una coppia, Cinzia e Samuele, di cui vedremo, c'è una guardia giurata, eccetera, eccetera. È una lingua, quella di Antonio, per certi aspetti miracolosa. Io ho letto una critica in cui lo si accusava di non avere usato abbastanza in termini di escursione stilistica. Io non so come potesse fare più di così, forse solo una bestemmia mancava. Io credo che invece Antonio giochi in un modo straordinario, andando con questo ascensore che va dall'alto al basso continuamente in modo quasi, senza quasi gradazione, da una parte all'altra. Strappi, interferenze, cambi di voce, pluristilistica e pluritonale. Di questa voce polifonica vi ho detto che c'è quella anonima, c'è quella anonima che ci dà un po' il resoconto finale a sera, e poi c'è anche quella invece meccanica, autoreferenziale e persecutoria, che è quella dello stesso ipermercato. La voce che conosciamo tutti, perché è uguale in qualunque ipermercato del mondo, invitiamo tutto il personale ad ultimare le operazioni. Io quando l'ho sentita, l'ho letta, ho subito poi anche qui pensato ad Elliot, a quel refrain che nella terra desolata, se vi ricordate, spinge gli avventori di un pub a sbrigare, a ultimare i bicchiere, a togliersi dai piedi. Questa voce martellante e persecutoria scandisce anche il tempo di Ettenapolis. La terra desolata è stata tirata in ballo tante volte anche da Guido Mazzoni, quindi probabilmente è più di una suggestione. Però diciamo che i confronti è utile farli, forse è ancora più utile farli per contrasto, per scoprire qualcosa in più sull'autore di cui si parla. E allora dico che nella terra desolata, se ricordate, venivano rifiutati il risveglio primaverile e il ritorno alla vita. Qui invece siamo in tutt'altra rappresentazione del tempo. Qui invece non ci si può sottrarre, non ci si può negare all'eterno presente che si ripropone ogni giorno circolarmente, al nuovo che non conosce degradazione, che non conosce tempo. Non sto dicendo una cosa da poco, ma è il libro che ce la suggerisce. Ma di fatto questa è la logica in cui ci troviamo, è la logica del mondo fondocapitalistico. Non si va realmente in avanti se è sempre up to date, sempre aggiornati. Ogni giornata si svolge circolarmente e Antonio lo dice in un'immagine molto bella quando Cinzia, nella pausa pranzo, a un certo punto taglia in due l'arancia del giorno. Il giorno che è sempre uguale, si ripete, i giorni si ripetono sempre uguali come tante arance. Poi, diciamo, a incrementare anche questa sensazione di tempo che non è tempo, c'è anche poi l'intestazione reale che ci introduce all'ipermercato Etnopolis, che è la città del tempo ritrovato. Tanto questa... Antonio lo riprende testualmente, ma sono, come sapete già, le parole proprio che introducono i clienti dentro Etnopolis. E ho letto in più occasioni di indignazione nei confronti di questa ripresa di Proust. Mi è sembrato comunque... è un'indignazione un po', l'ho detto anche a parere, un poco sprecata. Io credo che se Proust fosse vivo, fosse un uomo dei nostri giorni, probabilmente amerebbe gli ipermercati. Poi perché lui è uno che sapeva che la memoria effettiva passa proprio attraverso i fili del kitsch, del quotidiano più rutinario. Quindi probabilmente, tutto sommato, pur in un gesto commerciale, vale quel che vale, non è nemmeno poi così assurdo quello che viene detto, quello che viene detto effettivamente alle porte di Etnopolis. Allora, quindi gli scaffali di Etnopolis, come di qualunque ipermercato, sono in qualche modo condannati a una, diciamo, giovinezza perenne. Ed è forse la versione della vanitas più contemporanea che possiamo darci. anche questo non è una mia idea, è Antonio che gioca con citazioni bibliche, parafrasate, quindi vanità di vanità tutto è vanità, Etnopolis di Etnopolis tutto Etnopolis. Anche questo ci viene detto. Quindi viviamo di fatto dentro un ecosistema del tutto artificiale, dentro cui abbiamo la sensazione di effettivamente di trovarci alle prese con un universo autonomo, però c'è una grande rimozione, appunto, l'avevo poco fa annunciato. Questo grande rimosso è sicuramente la morte. Non è ammessa la morte dentro Etnopolis. E tutto è, appunto, sostituito prontamente. Tutto è nuovo, tutto è continuamente nella sua ultima versione. E a portare il turbamento della morte dentro le mura di Etnopolis sono i personaggi. Perché non possono, non riescono a distaccarsi dalle loro vite e loro con la morte non hanno avuto a che fare in modo più o meno diretto, come tutti noi. Alfredo in particolare ha due lutti molto gravi e molto tristi, molto tristi alle spalle. E poi c'è anche un'altra grande trovata che ha a che fare con questo rifiuto della morte. Quando Cinzia e Samuele vanno a lavoro la mattina, ci viene detto più volte, lungo la strada vedono ai bordi un paesaggio disseminato di cani per lo più morti. Cioè cani che hanno fallito l'attraversamento. E quindi giorno dopo giorno assistono al lento prosciugarsi di queste carcasse. Oltre che essere un dato realistico splendido, dico splendido ovviamente a condizione che il poesino si trapassi dentro la poesia, ovviamente. Ha anche una grande forza figurale questa immagine. perché effettivamente la morte è tutto intorno a Etnapolis, si raggruma in carcasse di cane, ma dentro a Etnapolis non può, non deve arrivare. Vi leggo solo uno di questi passaggi dei cani che sono molto forti. Cinzia studia per strada le carcasse di cani randagi, i vecchi e i nuovi e diversi, stati di decomposizione e di alcuni ormai solo un alone un po' più scuro dell'asfalto, una macchia con rametti di carne in disfacimento, il lavorio della morte in offerta ai passanti. però poi dentro Etnapolis si entra e siamo quindi dentro quel luogo chiuso e serrato. Questo luogo chiuso e serrato è naturalmente in termini di poesia, di poema, una struttura veramente fortissima, che tiene benissimo. È una cornice indistruttibile che sopporta per l'appunto direi qualunque tipo di escursione stilistica e qualunque tipo di registo linguistico. Antonio nel suo libro cita chat da Whatsapp, riproduce schermate di Facebook, tutti gli accorgimenti trovate stilistiche che dentro magari una poesia più tradizionale fatta magari di testi un po' più slegati fra di loro avrebbero causato sicuramente uno strappo, un'esplosione, forse proprio un crollo. L'importanza di avere una struttura così forte è che proprio ci puoi permetterti di metterci dentro, tutto sommato, qualunque cosa, anche linguisticamente, senza che però la struttura ne soffra. Anzi, la struttura non fa altro che confermare la sua tenuta proprio dentro questa continua libertà di scrittura che Antonio si concede e si costruisce continuamente. Però vi dicevo che non c'è solo il basso, c'è anche l'alto ed è soprattutto corrispondente ai momenti in cui dall'alto per l'appunto qualcuno parla. Lì effettivamente, magari l'avete notato nel primo pezzo che ho letto, anche lo stile sale e assume un andamento un po' oracolare, formulare. si capisce che ci troviamo di fronte a un momento di, pur non senza una qualche ironia, c'è comunque un momento in cui lo stile sta decisamente crescendo rispetto ad altri punti del libro. Fabio Pusterla, dato con ottimo orecchio, aveva notato che forse il timbro fonetico e sintattico di alcuni di questi passaggi potrebbe essere il Vittorio Sereni delle poesie olandesi. Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam. Antonio dice questo, anche questo, offre funambola et Napolis. Direi che l'orecchio non inganna. Però, appunto, lì in quelle poesie, in quella poesia in particolare, in particolare Sereni rimaneva alto. E come poteva fare diversamente, è una poesia che parlava di Anna Frank. Antonio, invece, subito ripiomba nel basso più dimesso. Lo dice l'io lirico sopraelevato, che fa un po' quindi da cantore dell'ipermercato, lo dice, piacciati entrare nel mio canto, tutta intera, le luci, quindi l'alto, come l'immondo, il basso. Il basso, in particolare, è sicuramente l'appuntamento giornaliero con l'escrementizio delle silenziose. Questa è una delle poesie più famose del libro perché ha circolato da sola, perché ha una sua autonomia rispetto ad altre parti. Le silenziose sono nient'altro che... anzi, no, nient'altro al contrario. Sono le signori in camice che, eroicamente, tutti i giorni fanno questo lavoro poco invidiabile, Etnapolis, come altrove. E Antonio, naturalmente, le racconta con grande pietas. Le racconta proprio in termini di... capita a tutti di ritornare magari alla fine di una giornata che è andata un po' storta e dire, ma come ho fatto a rovinarmela così. Ecco, immaginate la stessa sensazione prolungata sull'arco della vita. Antonio ci dà questa idea attraverso una metafora bellissima di un tuffo sbagliato di pancia che poi produce schizzi incresciosi. Un'immagine grandissima che appunto dice, ma non ideologicamente, ancora una volta, ma tramite figure, il dolore di stare lì dentro, di fare il lavoro sbagliato e la vita sbagliata. Ma guardate che comunque, già nel raccontarlo così, queste silenziose sono già state fortemente riprese, sono già state fortemente da Antonio riscattate. Non dimentichiamo sempre questo doppio gioco, doppio gioco ambivalente. Poi Antonio le chiama a un certo punto indurite madonne. Siamo sempre dalle parti dell'alto che va verso il basso e del basso che va verso l'alto perché appunto Antonio ci dice di fatto che c'è qualcosa di sacro nel lavoro degradante, cioè una tortura, una sofferenza, una passione che lo innalza e al contrario c'è qualcosa del sacro che viene portata drasticamente giù, lo si riduce alle ragioni del mercato. Abbiamo i crocifissi svaroschi, Cristi in fila negli scaffali senza più ricordo l'ombra del supplizio, ecc. Quindi sempre questa escursione portentosa che tanto viene annunciata da subito. L'incipit è vergine e pubblica, Etnapolis. Quindi mette subito le cose in chiaro. Il primo rigo è una dichiarazione di poetica, perlomeno è una dichiarazione di presa di posizione stilistica. Sto per finire. Poi scopriamo anche il lato inumano di Etnapolis, cioè quando le luci si spengono. Non c'è più la clientela che comunque portava un po' di portabrio e euforia apparentemente, per chi non ci lavora almeno. Ed è la visione quindi di Nuccio, la guardia giurata di Etnapolis chiusa al pubblico. Siccome è una delle mie parti preferite, Antonio me l'ha scritta. Rischiava di essere... Ecco, io sono fra quelli che hanno difeso questo passaggio straordinario secondo me. Quindi di Etnapolis inumana chiusa al pubblico. Parola di Nuccio, parola di guardia giurata, basterebbe che vi aggiraste una volta per Etnapolis spenta, spenta come un lunapark dal racconto dell'horror, per arrivare a capire di cosa viviamo. Allora, a parte il pathos della chiusura di questo passaggio, cioè qui è come se ci fosse anche quasi un'escursione sul dotico, per un attimo, no? Però l'orrore qui non è soltanto l'horror come lo intendiamo in modo più abituale, è anche horror vacui, se vogliamo. Perché cos'è che è venuta meno? La visione pienissima, stordente, però pure rassicurante, avvolgente della merce, delle vetrine piene. E questo viene ribadito che, insomma, in Etnapolis ci sia pure qualcosa che in fondo console, rassicura e abbraccia. A un certo punto Antonio dice addirittura che l'Etna risulta più irreale di Etnapolis quando è... Non ricordo se è quando spenta o quando è acceso. Quando è spenta, ecco proprio in quel passaggio della vicina. Quando è spenta fino a addirittura ad ombrare il vulcano da cui prende il nome. Anche questo è un effetto paradossale di una potenza incredibile. Ma quindi alla fine che cosa si finisce allora al contrario di quello che dicevo all'inizio? Per dire che Etnapolis è quindi l'unico mondo possibile. Allora, no. Nemmeno quello, ovviamente. Non andiamo nemmeno a quel livello di adesione e di accettazione. Soprattutto perché, appunto, non soltanto peniamo insieme a questi personaggi che, insomma, fanno appunto una vita non facile, ma a un certo punto appare un cervo. Qui vado finendo perché è anche la conclusione del libro. A un certo punto appare un cervo e porta lo scompio dovuto perché un cervo con Etnapolis non c'entra nulla. E questa apparizione del cervo viene però poi sviluppata e filata ad Antoni in un modo... in un modo davvero incredibile. Forse quel finale, l'ultima giornata in particolare, non ha molti lettori ancora. Quindi io spero che chi ha già amato i testi presenti di Antonio qui avrà veramente una botta in testa. perché il cervo, quando appare, sembra, sembra perché questa cosa viene veramente costruita sapientemente dalla poesia di Antonio, sembra rappresentare l'altra faccia di Etnapolis. Sembra, cioè, aprire virtualità di speranza in un mondo che fino a quel momento sembrava effettivamente meccanico, meccanico e senza uscita. Questo cervo che appare diventa, manco a dirlo, immediatamente star di YouTube perché subito i smartphone come pistole puntate vengono appunto puntati sul cervo che viene prontamente ripreso da un YouTuber che ci dice Si vede inequivocabile il cervo fare un giro lento attorno al cipresso qualcuno che entra e poi rapido esce dall'inquadratura mossa fuori campo una voce femminile che incita ad avvicinarsi. A pagina 87 Ancora due passi il corpo del cervo dietro il tronco del cipresso i palchi brunastri, la pienezza dell'esserci appena dietro il traffico che scorre al diciottesimo secondo qualcosa va storto l'inquadratura salta, va per cieli, poi si ferma sul niente dell'erba voci concitate, bestemmie è fuggito di là, è scappato via, dice l'operatore prima che il video si chiude l'inquadratura salta, va per cieli, poi si ferma sul niente dell'erba un passaggio bellissimo cosa dicevo prima della sintassi cinematografia qui però è proprio tematizzata perché effettivamente è qualcuno che sta riprendendo ad un certo punto ha paura quindi comincia a svariare con la camera va in alto, poi va in basso, eccetera, eccetera all'improvviso di questo cervo che la cui presenza non era prevista di questo cervo si cominciano a fare quasi delle istintive interpretazioni e si comincia a dare al cervo forse più significato di quello che un cervo normalmente dovrebbe avere pagina 94 93, 94 addosso me la sono fatta si può dire e l'ho perso e qui si chiude il video il suo modo di correre l'ho visto mentre cercavo di rialzarmi niente che avessi visto prima peccato che non sono riuscito a riprenderlo era quella corsa che dovevo riprendere come se non era di questo mondo dico e allo stesso tempo come se di questo mondo voleva che vedessimo qualcosa qualcosa d'altro attraverso di lui e mentre si allontanava seguendo la linea degli ulivi ricordo di aver pensato no ma questa è una sciocchezza non la dico perché fa così la voce che parla è un videomaker intervistato e sta raccontando i fatti poi a un certo punto comincia a sognare e dà al cervo appunto un sovrasenso simbolico e prontamente il giornalista per non inquietare i suoi lettori o spettatori censura questo passaggio e non la parte di prima e Antonio rende questa censura tagliando con quella formula di Word che taglia la scrittura torniamo al discorso di prima sul pluristilismo plurilinguismo in un libro tra virgolette più ordinario un effetto del genere faceva crollare tutto qui dentro tiene perfettamente e perfettamente armonico con tutto il resto allora quando io ho letto del cervo ormai credo un paio d'anni fa la prima idea che è stata che è passata per la mia testa è stata quella di Caproni del Kevin Huller il conto di Kevin Huller un poemetto straordinario in cui c'è una bestia che infesta le campagne del Ducato di Milano nel settecento sicuramente qualcosa ha agito però è vero che con Caproni siamo in piena allegoria Caproni chiaramente sta giocando a quello l'attesa di una qualche epifania anche anche religiosa anche anche metafisica che si dà e subito subito fugge quindi non si dà mai una volta e per tutte però Antonio fino a quel momento ci aveva raccontato un mondo allucinato ma del tutto realistico quindi io leggendo queste parti dicevo ma a che gioco sta giocando questo autore dove ci vuole dove ci vuole portare qua sul finale il fatto è che ancora una volta l'incantamento possibile avviene comunque dentro il mondo materiale in cui viviamo ecco di nuovo quell'ambivalenza nei confronti dell'imbestiarsi della nostra vita che dicevamo e quindi io raramente ho sentito nei confronti del mondo del lavoro tanta risentita però al tempo stesso inevitabile adesione nella ragazza Carla che è sicuramente un capolavoro alle spalle di questo libro però appunto forse questa ambivalenza è meno forte forse questa ambivalenza anche perché appunto non siamo forse meno dentro meno dentro quella vita e e quindi chiudendo chiudendo direi appunto D'Antonio sempre giocando sull'importanza che in poesia è appunto una questione un fatto positivo dell'ambivalenza ti chiedo in che rapporto stanno dentro Etnapolis l'imprigionamento e la libertà e quindi se possiamo se si può dare un cervo senza una qualche Etnapolis che comunque ci rinchiura e quindi ti chiedo se poi questa dialettica tra prigionia e libertà che ruolo ha questa dialettica anche nello stesso esercizio tecnico e pratico della tua scrittura applausi allora intanto grazie per essere per essere qui per aver ascoltato io a qualcuno di voi avevo detto che Andrea era bravo però l'ho confermato l'ho confermato c'è credo di non aver sbagliato l'accento e non hai sbagliato l'accento mentre a Palermo ti sei andata la pazza gioia e ieri anche l'editore diceva Etnapolis giustamente e poi io lo correggevo sbagliando è la prima cosa che viene in mente quindi vabbè vi ringrazio per essere per essere qui io partirei proprio da subito per risponderti alla domanda che mi facevi tu dicevi l'imprigionamento e la libertà questa dialettica appunto io ad un certo punto l'ho pensato anche l'abbiamo anche parlato con altri interlocutori del fatto che il libro si chiama appunto Suite Etnapolis quindi è composta da due parti e sono speculari diciamo è un titolo che però è come se fosse speculare l'uno all'altro perché Suite nella mia cioè quando poi ho pensato di scrivere il libro era già da subito il titolo che avrebbe dovuto avere il libro e per me Suite appunto è il riferimento al termine musicale no? lungi da me dal capirne qualcosa di musica soprattutto di musica di diciamo di secoli addietro però per me il termine il termine Suite era un termine appunto musicale ma rimodulato dal rock progressivo poco fa parlavamo di di Pink Floyd no? quindi il mio riferimento era molto pop molto rock con il termine Suite e cos'è la Suite? la Suite è un appunto un componimento musicale lungo suddiviso magari in delle parti attraversate da da un senso da da un tema ma rimodulato attraverso variazioni posso essere 3 4 e appunto invece la prima parte del titolo fa riferimento appunto nell'ambito semantico della variazione della molteplicità dello sviluppo eh dico sviluppo progressivo della narrazione eh mentre l'altro termine tra polis eh appunto era la voce la voce automatica la voce meccanica la voce cioè quindi un riferimento sempre uguale a se stesso eh mi sono scelto il tema che era un tema rigido cioè aveva confini certi come dico anche in una poesia aveva se volevo parlare del cielo dovevo parlare del cielo sopra e tra polis bene eh con cioè in suite secondo me confluiscono ehm i personaggi di cui Andrea accendava eh le storie eh quando volevo non raccontare per forza e tra polis potevo usare i personaggi per portarli fuori dai tra polis e per raccontare le loro vite anche al di fuori dai tra polis Andrea non non l'ha specificato però questi personaggi appunto vivono all'interno del centro commerciale e li racconto all'interno del centro commerciale ma per il principio della variazione di cui parlavo prima questi personaggi ad un certo punto escono fuori dal centro commerciale eh vivono le loro vite fuori dal centro commerciale poco fa appunto tu dicevi quando vanno verso i trapori si incontrano per esempio James e Samuel ai cani morti questo mi permetteva di portare appunto all'interno di un tema che poteva essere chiuso eh la la variazione appunto la la mobilità e raccontare tra polis ma raccontare anche quello che sta intorno a tra polis che sono dei paesi con le loro storie eh dico paesi come Paternò Pinomino Biancavilla Adrano cioè parlare del centro commerciale e mettere però i personaggi mi permetteva di creare la 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 variazione la mobilità eh attraverso questi personaggi io racconto anche ehm appunto la eh anche chiaramente per per fiammate per per accenni alla alla storia dei 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 paesi che sono l'initrofi al centro commerciale e dico in una poesia eh a un certo punto vengono a patti col centro commerciale eh e quindi ci fanno comunque conti quindi qui appunto la mi senti tu la la l'imprigionamento è senz'altro etrapolisi l'imprigionamento del tema quindi il confine che ti da il tema non puoi uscire fuori da quello però la suite eh la variazione e quindi i personaggi ti permettono anche di raccontare altro per cui suite etrapolisi è sì il racconto del centro commerciale ma è anche il racconto dei dei personaggi come appunto ha detto anche Andrea poi eh questo dissidio questo questa dialettica tra libertà e imprigionamento io la vedo anche dal punto di vista formale eh e sui tetrapolisi è sì un un racconto è stato detto racconto in versi romanzo in versi un poemetto anche se di un poemetto a poco perché è molto più più lungo del classico poemetto ehm e sì c'è una dimensione appunto narrativa quindi epica in qualche modo poco fa lo dicevamo un disteso epos di racconti e però c'è anche una dimensione forte che è anche quella che è lirica che quindi è l'accensione no? ci sono questi personaggi che prendono la parola e raccontano di sé quindi fanno anche il gioco della poesia lirica cioè il racconto no? di sé della propria esperienza e quindi questo applausi 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 che ne sono? scusate che io 7 e 10 possiamo già dare oppure posso dire una cosa un'altra domanda io sentire l'autore poi vi preparate magari qualche intervento se volete qualche curiosità ma comunque sì certo i personaggi escono anche da non è tutto schiacciato dentro l'ipermercato addirittura c'è un personaggio d'aria che parte se ne va proprio se ne va a Bologna quindi a Roma quindi sì però l'unità di luogo direi che non viene nemmeno per questo direi che la sensazione dell'unità di luogo è comunque forte e anzi proprio per forza gravitazionale coinvolge anche i posti che giustamente nomina a me piacevano molto con i passaggi anche descrittivi in cui tu racconti in fondo questa la pianura di Catania dove sono distesi tutti i paesini dove anche abiti tu questo colore verde sporco di lattuga c'è questo dato impressionistico meraviglioso a un certo punto quindi senz'altro sì però dico che la struttura comunque tiene e tiene siamo d'accordo perché la grande idea che hai avuto è questa comunque trovare un grande centro di gravità permanente scusate ma c'ho un po' di malincuore per battiato scusate penso che sta male quindi e allora ti faccio un'altra domanda poi aspettiamo magari se qualcuno vorrà intervenire io perché sono curioso proprio per sapere di sapere qualche trucco del mestiere e un po' me l'hai anticipato nel senso che effettivamente se vogliamo ci sono due dimensioni due nella tua scrittura c'è una dimensione più propriamente diciamo così verticale che tende quindi all'addensamento all'accumularsi di immagini e diciamo con una parola facile che è una dimensione più propriamente lirica quindi che tende allo spazio ristretto e alla densità poi c'è una dimensione invece orizzontale e distesa che dà movimento invece a tutto il resto che rende che coinvolge anche quei pezzi di lirica che è una dimensione direi a questo punto diciamo pure epica fatta di narratività fatta di personaggi di vite di storie che ci vengono rese a volte con piccoli tocchi che però bastano a dare veramente rotondità e pienezza a queste vite non abbiamo la sensazione che ci manchino dei dettagli effettivamente noi di questi personaggi sappiamo quello che ci serve quello che ci serve e allora visto che giocare su due tavoli non è facile probabilmente la cosa più immediata per chi si cimenta a scrivere poesia proprio per tutti è la verticalità appunto presto dentro è presto fuori un progetto ad ampio respiro è per definizione più direi più impegnativo appunto entrando nel tuo laboratorio mi piacerebbe capire come sono nati questi personaggi ma proprio in termini di di appunti di costruzione graduale se c'erano se appunto c'erano già dei personaggi che ti perseguitavano da tempo e altri che si sono giunti dopo e si sono agganciati insomma ma com'è che si è popolato questo questo ipermercato più o meno fittizio allora sì intanto appunto è stato un libro che ho scritto in due anni in due anni di scrittura continuativa giornaliera forse è nata e quindi già questo anche questo secondo me dà anche la dimensione anche una diversità rispetto ad altri ad altri modi di approcciarsi alla poesia che chiaramente anche è stato e sarà suppongo anche il mio cioè quello dell'ispirazione che ti impone di appuntarti il verso e poi lavorarci magari successivamente e quindi due anni di scrittura dal 2013 al 2015 poi sono passati un po' di anni da lì alla pubblicazione in effetti anche se l'abbiamo è stata giustamente dislocata in varie uscite e dicevo allora quando adesso ci riflettiamo mentre facevi la domanda cioè mentre quando scrivevo Dietra Polis nel senso quando il tema forte centrale Dietra Polis con gli avventori con tutto quello che mano a mano mi viene in mente quando ho pensato di scrivere sul libro mentre quella parte su Etra Polis mi veniva facile anche da scrivere la parte più difficile ma questo veramente ci sto pensando adesso mentre me lo dici è appunto scrivere dei personaggi lì era molto più tosta perché in realtà io avevo questo sì da scrittore forse più perché da poeta avevo appuntato intanto l'idea iniziale era quella di raccontare Etra Polis ma da un unico fulcro c'era un unico personaggio che doveva un po' fare da collante al centro commerciale quindi raccontare il centro commerciale tra nessun solo personaggio che poi tra l'altro era un personaggio che era pericolosamente spaventosamente vicino al mio io cioè era quel personaggio che fa il commesso commesso in una in una libreria e poi subito dopo ho capito che che non mi bastava raccontare il centro commerciale attraverso una sola voce che avevo bisogno di più voci per dire tante cose perché è vero che che un personaggio mi permetteva di dire alcune cose ma c'erano moltissime altre cose che potevano essere dette che se avessi se mi fossi accontentato di una di una sola visione non avrei potuto affrontare Dicevo la scrittura è stata appunto appuntarsi intanto l'emergenza di questi personaggi alcuni immediatamente vicini e come dicevo c'è un personaggio che è come dire molto vicino al mio io biografico e altri molto lontani dalla anche da quello che effettivamente cioè dalle persone che effettivamente conoscevo non c'è un solo personaggio che possa dirsi effettivamente un personaggio cioè una persona realmente esistita che realmente ha lavorato lì la costruzione è stata appunto graduale ma appunto appuntandomi le varie cose che dovevano per raccontare quella data storia che ovviamente è una storia minima non potevo cioè non avendo gli strumenti e la voglia di scrivere un romanzo non potevo avere a disposizione molte pagine molte cose da dire quindi dovevo lavorare a togliere però per dare allo stesso tempo non appesantire neanche la narrazione quindi la poesia e dare però allo stesso tempo l'impressione di sono sette giorni l'impressione che i personaggi in quei sette giorni comunque subissero una metamorfosi una metamorfosi qualsiasi quindi comunque che avessero una storia molto ho lavorato chiaramente a togliere quando la data era necessario ma tutto sommato cancellabile ho preferito cancellare per esempio quindi questo io ci riprovo se qualcuno vedo anche dei reduci da Bologna senza fare senza indicare o fare nomi se qualcuno vuole magari chiedere qualcosa altrimenti continuiamo a due chi ci vuole non è una domanda sono stata incaricata dalla signora Lanza di fare una cosa chi vuole fare una domanda ah certo avete parlato dell'aspetto cinematografico della no no però anche a voce così ci sentiamo e c'è una cosa abbastanza e volevo chiedere se c'era invece qual era la colonna sonora proprio di questo poe perché abbiamo parlato dell'aspetto cinematografico ma se c'è proprio un cioè cosa ascoltava in quel periodo così da da capire anche c'è la risposta che ho detto si si non lo so si si infatti potresti ma non grazie ricordo della domanda che musica c'era allora intanto parto da qui la musica era il principale strumento di di annientamento che personalmente come 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 persona subivo al centro commerciale c'è stato un periodo soprattutto negli ultimi mesi in cui la radio mandava si a ruota per sei ore e mezzo sentivi per sei volte lo stesso pezzo e a volte era veramente cioè magari non voi direte vabbè ma cioè che cosa che cosa significa ma era un periodo tra l'altro in cui e la cosa bella è stata questa io ho iniziato a pensare al libro di scrivere libro proprio quando con la crisi economica i meccanismi soliti di cui vive una libreria come questa appunto vive cioè la merce che arriva che arriva durante il giorno tu apri gli scatoli li passi al computer i sistemi tutto questo e poi i clienti che entrano che ti chiedono il libro che ordini che porti eccetera questo a un certo punto si interrompe perché subentra una crisi la crisi economica tu dall'interno la vedevi la sentivi fortissimo e quindi quando questo meccanismo di lavoro continuo e magari quando il lavoro è continuo cioè non riesci a capire cosa realmente ti sta schiacciando quando però sei costretto perché c'è stato un periodo in cui facevamo eravamo presenti in libreria ma fondamentalmente non facevamo nulla per motivi appunto come ti ho detto di crisi e di mancate consegne da parte dei corrieri eccetera questo sentirsi la faccia spiacciata sotto un piede io la sentivo molto forte e la sentivo anche con la musica tant'è che io mi difendevo ascoltando a mia volta all'interno della libreria la musica che piaceva a me che poteva essere anche una musica che non avevo mai ascoltato ma di cui ero curioso approfondire però ritornando alla la domanda senz'altro erano i Pink Floor e in particolare diciamo quale in particolare quale album era The Wall ne parlavamo poco fa anche con Studiale cioè quella la sonorità quanto diciamo così opprimenti opprimenti ma però che cioè poi tra l'altro come dire quell'album il concept album ne parlavamo poco fa mi dava anche il modello a cui riferirmi per scrivere il libro io veramente tantissimo devo a a Elliot autori che sono stati citati pagliarani eccetera poi è strano anche qua Maria Tancio mi diceva è vero che hai letto tanti siciliani ma che poi nella tua scrittura questo a me vuole non si sente perché si sentono scrittori che magari tu personalmente consciamente non pensi siano così importanti che però poi nella scrittura si sentono ma è anche vero che c'erano i Pink Floyd c'era quella dimensione appunto anche narrativa che hanno album come The Wall e da lì appunto da strutturare il libro come se fosse una narrazione sì se posso dire questa a parte che sono molto contento che sia uscito questo libro per ragione che anche Antonio conosce e come dire mi sentivo coinvolto mettiamola così perché lo conosco da tanto tempo c'è stata tutta una vicenda e poi va bene io sono personalmente molto legato alla dimensione orale musicale delle cose per cui diciamo colgo anche delle risonanze magari che sicuramente non fanno parte del non del mondo di Antonio però di certo teatro della voce americano penso a Robert Aschila tutto un mondo che in qualche modo immagino si potrebbe anche ricreare a partire da questa scrittura cioè vedo che qui come si parla di cinema si parla di musica in modo esplicito cioè questo testo in questa sua questo suo essere così come dire vario pur essendo fortemente centrato si presterebbe secondo me anche a degli sviluppi diciamo in altre in altre forme di contaminazione con il suono e con l'immagine sicuramente per cui è una cosa poi io ci sto pensando ne parlavo con Angelo qua che ci pensavo evidentemente questo testo rimanda immediatamente a questa cosa e quindi anche così dal punto di vista della bottega della scrittura volevo chiedere Antonio se in qualche modo ci sono delle parti del libro insomma se lui se l'uso della voce se il verso lui al di là della scrittura lo recitava ad alta voce se c'è questa cosa e anche una guida nella scrittura mi interessava perché io in qualche modo ce lo colgo questo però grazie grazie sì 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 c'è come e anzi c'è in una dimensione diversa e in idea rispetto a quello che quando avevo scritto in precedenza rispetto a Trapolis comunque c'è anche la una ricerca cioè mentre scrivevo come come hai capito intuito tu provavo a dire le parole per la prima volta nella mia carriera di scrivente sentivo che le parole suonavano che avevano il loro senso il fatto che quelle parole dovessero stare lì poi tra l'altro ancora tornando ai Pink Floyd mi viene in mente questa cosa come la musica può anche dettarti il tempo della scrittura quando dovevo scrivere un pezzo io richiamavo pezzi perché avevo questa scaletta in cui a un certo punto dicevo devo fare il pezzo su molto così banalmente e a un certo punto volevo scrivere un pezzo che fosse che avesse un ritmo più serrato più più duro e lì per esempio mi hanno aiutato mi ha aiutato molto ascoltare anche da un altro album e sentivo ossessivamente un pezzo perché poi in qualche modo volevo replicarlo con la scrittura e volevo che quelle che le parole in questione suonassero con quel ritmo con cui io sentivo il pezzo che stavo ascoltando e volevo leggere anche qualcosa visto che forse questa parte è fondamentale che sì sì ecco ecco per esempio c'è questo pezzo che è pagina sì tra 80 e 81 cioè ultimo verso di pagina 80 anche qua si cita poi lo vedrete una una cantante Bonnie Tyler che io non conoscevo ma a volte quando cioè nei momenti di grazia tra poi si riusciva a mandare anche dei pezzi che sembravano dare senso alle alle giornate nostre lì al centro commerciale volge in sera il pomeriggio radente dalle porte scorrevoli a ovest entra il sole a accendere le vetrine dei primi negozi sfavilla quelle centinaia di impronte di suole accumulate il pavimento di pietralavica levigata un rossore tenero ammorbidisce sui volti i tratti più aspri e per congiura manda pane più buono la radio la voce roca di Bonnie Tyler che dichiara che è stato solo un gioco folle nient'altro che un gioco folle e a qualcuno dei distratti o dei commessi potrebbe persino avvenire di sentirse ne punto lì dove più molle non difeso da ossa attende paziente il dolore di essere vivi questo era poi volevo leggere anche il pezzo di cui non mi ricordo più cosa possa essere ecco sì 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 è un pezzo che avevo anche letto altre volte prima ancora di il punto che venisse pubblicato perché era uno dei miei ecco dove fa maschio e femmina però adesso non ricordo non c'è 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 ok allora questo questo pezzo era appunto rimodulato su un pezzo di Pink Floyd non vi dico qual è così non potete stabilire il confronto maschio e femmina e tra polis cazzo e buca e tra polis bussola e catena mestro della domenica operosa e tra polis mela e serpe dei make drive a sera spine e cardi la spesa nei carrelli polvere e tra polis dei gratte vinci nuvola a vuoto dell'euro tutti sogniamo un giorno la cioccolata l'umana misura di ogni cosa arca e fogna e tra polis sudore ricacciato nella fronte e tra polis croste rivolti nei corridoi più arredammo il vuoto e più il vuoto ci scappò di mano e tra polis dei cani sedati dietro le gabbie dei canestri pensolanti dei crani eccitati da musica e colore di merce e tra polis di tutte le e tra polis di tutte le province del mondo canto delle merci, canto delle ruote, canto dei corrieri coriandoli di curricula analgesico e alzheimer e tra polis fuscello di ricordi oscuro cimento delle coccinelle diavolo sotto il cipresso materna e molo che tra polis mammone e maschera di lupa multisana, multicefara dove rotoli e rotoli e rotoli di locandine bruciano già prima che cominci il film grazie se ci sono domande io ti volevo fare una domanda in merito alla poesia come testimonianza cioè come testimonianza di un mondo che senza la poesia non prenderebbe vita ecco, tu in qualche modo parlando di Etnapolis hai dato vita a Etnapolis l'hai reso vero l'hai reso anche fonte di poesia ecco questo volevo dire intanto grazie ti ringrazio perché poi usi un sintagma che mi piace cioè poesia come testimonianza poesia come resistenza anche volendo si è una cosa poco fa Andrea parlava di questa cioè questo tocca anche al poeta probabilmente si era perso questo elemento tu con la tua poesia l'hai riportato in audio cioè tu non parli solo per te parli per la tua generazione parli per il nostro mondo non parli solo di te sì appunto il mio era anche un tentativo di uscire dalle gabbie dell'io cioè da una poesia come solo espressione di sé sicuramente farò anche io poesia di quel genere un domani e nessuno mi... però io ho trovato come dire compiuta espressione di me nel momento in cui ho fatto uscire delle voci da me che non erano me questa è stata anche la grande scoperta per me come autore e come poeta della poesia di questo libro per questo non ho fatto mai uscire altre cose dai foglietti della mia stanza se non questo di cui mi sentivo abbastanza sicuro e tra l'altro appunto esprimendo come dicevi tu una generazione che magari condivide questi nostri disagi questo nostro vivere alla giornata paradossalmente anche qua parlando di altri, parlando degli altri, parlando di un tempo poi ho trovato piena espressione anche la mia individualità che poi viene fuori comunque dal libro domande? a questo punto si dice che tu sei timido però il libro ti ha diciamo liberato si ma infatti io sento questa... allora come persona sono un io lirico chiuso e ingabbiato però come autore invece almeno al computer sentivo la capacità anche la capacità di esprimere me e in tutti i modi possibili cioè sentivo la necessità e come dire che il discorso poteva andare avanti anche appunto esprimere tante parti esplosive mentre lo scrivo sentivo appunto l'esplosione la sentivo forte è anche vero che poi non puoi dare solo l'idea dell'esplosione chiaramente dietro l'esplosione c'è anche la sapiente tra virgolette, molte virgolette tenuta di tutti i temi e di quello che dovrebbe poter dire il libro poco fa si parlavamo del... questo l'ho dimenticato quando tu mi dicevi del dissidio della dialettica tra imprigionamento e libertà anche il cervo, questo me l'hai fatto notare tu, subisce questa metamorfose questo passaggio dall'essere imprigionato l'idea del cervo è venuta poco dopo aver iniziato a scrivere perché da subito avevo l'idea che a un certo punto doveva succedere qualcosa che doveva un po' scompaginare quello che stavo scrivendo pensavo alle cose più inimmaginabili e poi a un certo punto mi è venuta l'idea forse più astrusa però che mi veniva dal fatto che poco fa si parlava di morte che la morte viene allontanata dal centro commerciale ma questo è un dato reale, vero, lo posso testimoniare con foto che a Etnopolis nel parco c'è un cipresso questa è una cosa che tra l'altro io andavo con quel cipresso e mi mettevo lì leggevo alla non ombra del cipresso e a me sembrava paradossale che sembrava paradossale il fatto che all'interno di un centro commerciale dove ci si dovrebbe, ci si deve dimenticare della morte in realtà c'era proprio un albero che è proprio quello e quindi l'idea del cervello è venuta, è uscita fuori da quell'albero perché a un certo punto cerco cipresso su Google e a un certo punto rispunta la storia di ciparisso che dà il nome all'albero cipresso e tutta la storia che racconta per esempio Ovidio nelle metamorfosi in cui questo ciparisso che ha un rapporto omeoerotico con Apollo a un certo punto per sbaglio ha questa passione della caccia sul cervo sopra il cervo e a un certo punto per errore lo uccide e lui è talmente disperato non riesce a farsene una ragione allora Apollo lo trasforma in quell'albero che proprio deve, come dire, è il simbolo del pianto perché la resina della corteccia proprio c'è questa qua ah ok c'è questa parte che è molto diciamo teatrale comunque ha i personaggi Samuele e Cinze che dialogano c'è proprio il, come a teatro, come nell'opera teatrale c'è il termine Samuele cioè il riferimento a Samuele Cinze e poi chiudiamo forse, vero? no, no, no Samuele allora per il dolore chiede di poter piangere per sempre e Apollo lo accontenta? Apollo anche a sforzarsi non può capire tutto quel dolore per un cervo è un dio, no? non un uomo e che ne sa un dio del dolore di un uomo? e poi ama Ciparisso certo e vuole salvarlo infatti ci prova a calmarlo, a fargli cambiare idea e Ciparisso? ostinato e alla fine Apollo lo trasforma in un cipresso la cui resina sul tronco forma gocce simile a lacrime con una promessa che sempre Apollo lo piangerà e sempre Ciparisso piangerà per tutti gli altri insieme a chi soffre e poi Cinzia dice piange anche per noi allora e Samuele risponde è lì, guardalo e diciamo a proposito il cervo quindi a un certo punto è venuta questa idea ed è nata dal fatto che c'è un cipresso lì e allora dentro di me sono iniziate a nascere delle metafore che hanno anche a fare col cervo quindi a un certo punto dico che la festa si ingolfa cioè la festa di Etnapolis non riesce a sanire come le zampe di un cerviatto come le zampe cerviatte che prima cedevano e srucciolavano quindi il cervo inizia ad essere metafora da subito quindi la metafora di che non ce la fa stare in piedi di una cosa che non riesce a stare in piedi poi diventa un cartellone pubblicitario poi a un certo punto si accenna a qualcosa che ha a che vedere col cervo quindi questa temata è anche qua come la musica cioè all'inizio c'è un tema che ricorre poi subito dopo lo risenti poi viene riformulato e magari viene svolto e a un certo punto questo cervo veramente viene fuori viene fuori in carne e ossa cioè io non ne faccio neanche un'apparizione miracolosa quella è la lettura che magari qualcuno ne fa il cervo è un'apparizione miracolosa qualcuno dice ma sì ma non può essere chissà cosa avrei visto non era un cervo però questo cervo in realtà è annunciato nel corso del libro a un certo punto appunto spunta fuori da Etnapolis per mostrare a Etnapolis come se questo cervo fosse l'occhio cioè Etnapolis, noi non vedremmo Etnapolis poco fa tu mi chiedevi questo esisterebbe il cervo se non ci fosse un Etnapolis che lo... no perché il cervo è l'occhio di Etnapolis cioè se noi avessimo solo Etnapolis non vedremmo Etnapolis non ci faremmo neanche caso io stesso mentre ci lavoravo fino a un certo punto non badavo a quello che era il centro commerciale a un certo punto però compare quest'occhio l'occhio che restituisce poi tra l'altro è bello che la materia crea qualcosa che può vedere la materia tra l'altro su cui la materia può essere vista e quella... questa visione questo specchio anche lo vedo anche come fosse uno specchio cioè Etnapolis si vede si vede per quello che è quando esiste un cervo che è tutt'altro che è qualcosa di alto rispetto a Etnapolis e ci mostra, ce lo mostra in quel modo cioè il cervo fa da specchio Etnapolis e noi vediamo Etnapolis attraverso finalmente attraverso il cervo io volevo... visto che si è parlato insomma in maniera quasi esplicita di rapporto tra musica e diciamo teatro non so se sia stato intenzionale infatti appunto volevo chiederti questo a me senza ancora aver letto questo libro mi affascina la relazione col mondo del barocco e a parte già il titolo stesso suite ho pensato immediatamente alla suite barocca alla politica dell'eccesso della stravaganza del horror vacui tutte tematiche che ovviamente in qualche modo sono coerenti con questa densità di scrittura immagino non ho letto ma intravedo già dalle pagine questa densità anche questa volontà tua e necessità nel tempo di ridurre di togliere da questo da questa... anche da questo eccesso prima parlavi di questa esplosione che un po' ovviamente anche lì bisogna anche relazionarlo chissà a qualche cosa di vulcanico parlando di Etna quindi ti chiedo hai contemporaneamente alla scrittura di questo libro intenzionalmente letto o ti sei rivolto a un immaginario barocco o questo si vince o lo vinciamo diciamo noi magari perché ognuno ha un proprio mondo diciamo di risonanze che si mette in moto e poi volevo dire un'altra cosa i sette giorni a me sanno tanto proprio di sette momenti della suite che strategicamente sono stati pensati come proprio strategia ma per creare varietà diciamo strumentale vabbè una considerazione più musicale grazie faccio tutto faccio il... il balletto quando la libraia si aggira però casualmente ok no allora certamente non c'è intenzionalità cioè non c'è intenzionalità poco fa infatti dicevo che il termine suite io lo riduceva appunto al termine che è stato ripreso dal rock progressivo non so della... quindi il rock progressivo chiaramente riprende qualcosa di molto più che appunto la suite barocca ma chiaramente non so nulla della... musicalmente della suite barocca però ti posso dire che evidentemente un... da qualche parte il barocco siciliano è anche una dimensione barocca della scrittura che può essere quella di... per esempio di bufalino, di consolo ecco allora a questo punto non è vero che gli scrittori siciliani non mi hanno formato non si vede nella pagina forse è anche quello che ha formato la mia scrittura e certamente quella dimensione appunto di variazione però nella scrittura mi ha segnato che sia sempre qualcuno sono sempre... l'autore è sempre aperto alle domande molto meno venti allora possiamo fare un... chiudiamo comunque gli interventi molto belli su un dibattito vivo l'altro l'altro a Palermo era stato un po' più... no... vero no anche perché poi mi avete fatto in mente delle cose che non avevo pensato che poi ad esempio se vogliamo magari c'è un parallelismo così un po' così emotivo però i Pink Floyd stanno molto dalla parte dell'epos se vogliamo gli arrangiamenti dei Pink Floyd stanno dalla parte di questo tipo di scrittura quindi se forse non è nemmeno tanto emotivo forse effettivamente c'è qualcosa di strutturale che che veramente passa da un codice all'altro e questo è importante è bello comunque perché non ci avevo mai pensato anche se è sobito e ascolti quindi non l'avevo mai associato però in questo modo e quindi ovviamente anche poi i modelli precedenti più antichi del rock contemporaneo del rock progressivo e poi sulla questione dell'oralità è vero che leggendo davvero ti viene voglia di declamare ti viene voglia di declamare ad alta voce ed è il segreto anche di questa scrittura che ne senti veramente comunque effettivamente una ha una vivacità teatrale effettivamente per tornare a quello che dicevamo alla possibilità che poi ci sia un'ulteriore trasmigrazione di codice per questo libro io direi che probabilmente ci saranno speriamo altre incarnazioni per sweet etnopox quindi l'aspettiamo intanto ci accontentiamo di questa per il momento il dibattito continua a tavola grazie